Questo è il programma che vi dicevo di incentivi e tesserine. Ve lo faccio vedere così perché non riesco a condividere lo schermo. L'ho scaricato in un sito che poi vi linko nell'info box e vi faccio vedere che, vabbè in inglese ma si capisce benissimo, ecco questi sono quelli che noi chiamiamo bonus. Quindi abbiamo un più 5 che possono sostituire appunto 5 gettoni, è un po' più facile poi nella distribuzione, più 10, più 15, più 20, più 25, 30, poi c'è appunto 35 e via così fino ad arrivare a 50. No no, si prosegue appunto 75 e 100, io non ho mai dato 100 perché ho fatto premi rinforzi che massimo arrivavano a 50, però ecco mi sa che quest'anno alziamo un po' il tiro. E poi si trovano anche queste tesserine che sono quelle che poi si possono ovviamente ritagliare, ne viene consegnata una a bambino e vanno bucherellate con la foratrice in prossimità dei disegnini laterali, sono vale 10 appunto. Abbiamo tantissimi disegni, considerate che una per esempio per la mia classe non è mai durata meno di un mese, dura molto più di un mese, quindi ce ne sono alcune che in due anni non ho mai usato, ce le abbiamo a tema primavera, a tema fortuna, a tema tacchino, ovviamente non sono italiane, però insomma a tema San Valentino, c'è quella di ottobre che è sempre la più gettonata, poi c'è la festa della terra, ci sono quelle con i doni natalizi, poi io le stampo in bianco e nero e i bambini le colorano, quindi diventa pure una cosa carina per loro, un momento rilassante che generalmente si godono anche nel colorare la scheda, mettiamo sempre la data d'inizio sul retro e poi la conservano all'interno del diario con un attascio dentro una bustina trasparente che io consegno. E poi infine, in fondo a questo meraviglioso file di 95 pagine, infine ci sono tutti i vari rinforzi, quindi anche se sono scritti in inglese sono facilmente traducibili, questi magari io li ho stampati a colori e poi li ho plastificati, ma li utilizzo anche in bianco e nero per attaccarli sul diario quando loro comprano uno di questi coupon, io li chiamo i coupon, e abbiamo per esempio Music Mania, quindi chi compra questo c'è un giorno in cui può ascoltare musica di solito mentre facciamo arte, ascoltarla proprio con le cuffiette, poi c'è un bonus di alcuni minuti extra in ricreazione in giardino, poi c'è sedere vicino la maestra, poi c'è il bonus che possono tenere per un giorno il cappello in classe durante la lezione, c'è una nota positiva per i genitori, quindi una nota di merito, c'è siedi alla sedia dell'insegnante, c'è Movie Mania che nella mia classe è il più gettonato di tutti, quello che preferiscono, che riguarda appunto il fatto di poter portare un video da condividere con la classe, generalmente lo utilizziamo al posto della ricreazione del post pranzo, tutto rigorosamente concordato, il contenuto concordato e anche la data concordata in cui devono portarlo. E via discorrendo, si va da la caramella, ricevi un applauso dalla classe, c'è proprio degli incentivi anche abbastanza, possono sembrare banali, però per i bambini sono importanti, soprattutto suddividendoli in base all'età, quindi a quello che loro desiderano. Questo era uno dei preferiti, per esempio nella mia classe, è tuttora, cioè siedi con chi vuoi, poi il tempo lo stabilisco io per due giorni, per tre giorni, per una settimana, eccetera. Quindi questi sono tutti i vari rinforzatori, siedi accanto a chi vuoi durante il pranzo, niente compiti per casa per questo fine settimana, eccetera. Cercherò il modo di linkarvelo in infobox, così se volete potete andare a recuperarlo anche voi, ma credo ce ne siano anche altri.